Ciao amici, sono qui in compagnia di Beatrice che è venuta al nostro ristorante per una cenetta questa sera. Beatrice viene da Suzzara, provincia di Mantua. Da Suzzara in provincia di Mantua, zona dove si mangia la grande, molto bene. E come è andata la cena qui stasera? Benissimo, veramente stupendo. Cosa hai mangiato? La pizza Evolution, buonissima, croccante, buonissima, il dolce, il dolce, e l'entrée. Benissimo, allora la Beatrice ha una storia particolare perché ci ha conosciuto da poco. Sì. E durante il lockdown ha preso tanti chidetti in più. Poi però hai conosciuto Cucina Evolution. Sì. Come hai conosciuto Cucina Evolution? Tramite Instagram. Tramite Instagram. Cosa ti ha incuriosito? Il fatto che potete far mangiare qualsiasi alimento della cucina tradizionale italiana senza ingrassare dolci, pasta, lasagne. Piuttosto che non c'è da stare per forza a dieta ferrea. Quindi tu dopo aver perso tanti chili mangiando solo proteine eri un po' terrorizzata del fatto che poi mangiando dolci, mangiando pasta, mangiando pizza, avresti ripreso... No, terrorizzata, l'ho proprio provata sulla mia pelle. Avresti ripreso tutto questo, no? E invece ha voluto provare i dolci, la pizza Evolution. E come è andata? Benissimo, non sono mai aumentata neanche un grammo. E che cosa hai mangiato di buono, di Evolution? La goduria, ho fatto le pizze, ho fatto le torte, i ragù, il brodo, le tagliatelle, tutto. E quindi non si è aumentata neanche un grammo. E poi ti sei trovata un po' in un cemento. Sì, solo che io adesso faccio fatica a mangiare solo proteine, capito? Eh, perché senti la necessità di introdurre anche qualcos'altro. Mangiare tutto il tuo corpo. Poi volevo eliminare un po' le proteine animali, ecco. E poi come è cambiato anche il tuo umore da quando hai inserito Cucina Evolution? Beh, sono molto più su di morale e poi soprattutto, beh, questo già da quando mi sono messa anche un po' dietro ho smesso la pastiglia per la pressione, mi sono operata 14-15 kg, però anche grazie alla mia nutrizionista. Certo. E così, molto più su. Più tranquilla, forse, no? Ok, e quindi a casa come hanno? Adesso ho introdotto senza dire niente, ho fatto la pizza, ho fatto questo, piace tutto, la torta me l'hanno, mia figlia me l'ha richiesta, il cioccolato e insomma, pian piano sta introducendo l'inolina, queste fibre che aiutano anche a abbassare la glicemia. Insomma, io è come se avessi scoperto l'America, perché posso mangiare quello che voglio e non si alza l'indice glicemico, la glicemia, scusami. E poi non ingrasso, insomma, sono felice. Quindi sei contenta? Molto, molto. Allora... Ringrazio tanto a Chiara di averla scoperta. Eh beh, insomma, ringraziamo anche tante persone che come te fanno anche tanto passaparola, perché quando si scoprono cosa di questo tipo si pensa sia impossibile, no? Sì. E allora pochi, magari qualcuno ha proprio paura anche di provarlo, perché dice no, sicuramente mi farà ingrazzare, no? E invece, invece funziona e ci rende più felici. Quindi io sono contenta di incontrarvi qui al ristorante, di sentire le vostre storie. Infatti volevamo provare anche il ristorante e siamo rimaste molto contente. Però veramente, lo dico proprio onestamente e sinceramente, io quando mangio gli alimenti di Cucina e Bruxelles mi peso il giorno dopo e non ho un grammo in più. Ma vediamo domani mattina, eh? Mi raccomando. Sì, ti avviserò. Ok, benissimo. Grazie, ciao. Buonasera. Ci rivedremo al corso, ogni sabato facciamo un corso. E quindi, ecco, avanti tutta, più felici, più in forma e dimentichiamo le restrizioni e le diete con Cucina Evolution. Ciao. Ciao a tutti.